Buonasera, sì, allora, parliamo di errori, parliamo di un libro che, come avrete capito, non è un libro contro gli errori, anzi, vuole essere un elogio dell'errore come momento di libertà e di crescita, però lo dico subito, non è manco un libro che mette sullo stesso piano errori e, come il contrario dell'errore, non errore, giustezza, verità, non è un libro che, è un libro che ci impara a convivere, ci insegna a convivere con gli errori, però raccontando storie di scienza dimostra che non è che non c'è un confine fra l'errore e la verità, tra la manipolazione e la verità, e questo è molto importante dirlo in un'epoca in cui invece, per un malinteso relativismo, relativismo è una qualità umana, significa mettere in relazione le cose, ma per un relativismo esteso o estremo o manipolatorio o interessato, tendiamo a mettere sullo stesso piano cose che possiamo provare e altre che non possiamo provare, cosa che qualcuno più competente e esperto di noi ha compreso. Voglio dire subito che è un libro bellissimo, sono molto contento di essere qua, ho molta stima e simpatia per Piero e sono molto contento di raccontare molti errori, ho sempre paura e credo che il timore Piero lo condivida che poi alla fine diventi il libro di tutti, questo parlare di errori. Messa da parte questa, adesso parliamo di errori, ci divertiamo anche ad ascoltarne, perché è un libro anche molto divertente, e impariamo qualcosa, per esempio che per la scienza l'errore non è solo un inciampo, ma come sentiremo raccontando delle storie, perché è un libro pieno di storie e vorremmo che ne raccontassimo il più possibile. Prima però vorrei chiedere perché una persona come Piero, come avrete sentito, è impegnato in cose serissime che con qualche sforzo riusciamo pure a capire, per esempio ho capito, ma perché me l'ha spiegato molte volte, come la fusione nucleare che è il contrario della fissione, anche se proprio non è questo, sarebbe la soluzione del problema dell'energia e del nucleare sicuro e senza scorie, perché lavorerebbe anziché sulla sua spaccatura del famoso atomo maledetto, benedetto, c'è anche questa storia dentro, in un'altra direzione. Quindi perché è impegnato in cose così serie e perché proveniendo da seri studi di una di quelle scienze, la fisica, che noi con una formula un po' sbrigativa, che non so se Piero chiamiamo le scienze esatte, chiamiamo scienze esatte, alcune scienze presupponendo che non sbaglino mai naturalmente, se non sarebbe esatto e ci rassicurano. Perché per esempio un libro come quello bellissimo, peraltro sulle misure del mondo, che non è che è proprio un libro, la misura c'è sempre, per leggendolo qualche approssimazione, però è un libro che parla delle misure del mondo, cioè del modo di misurare razioni, nel misura non ci veste un errore, se c'è un errore è una truffa, è il fruttivendolo che imbroglia. Non so se ci sono fruttivendoli, se si offre, ma insomma fruttivendolo. Ecco perché dopo libri così, con questa formazione, ti ha affascinato il tema dell'errore? Perché hai pensato che fosse un tema che riuscisse poi a raccogliere tante questioni e anche tante storie? Ma guarda, comincio perché mi ha molto colpito con una frase che ho ascoltato questa sera, da chi ci ha preceduto nella prima presentazione del festival, che era Marco Balsano, che ha usato questa frase che l'imperfezione è il nostro distintivo, è il distintivo dell'essere umani e dell'essere quindi diversi dalle macchine. Allora, arrivati a una certa età, questo comincia a realizzarlo, perché effettivamente ti guardi allo specchio, guardi indietro e capisci che di errori, di imperfezioni, ne ho parecchie, vorrei dire che ne abbiamo, ma insomma ognuno poi giudica per se stesso, ne ho parecchie e quindi, se vuoi, il libro nasce sostanzialmente da questo. Cioè da, io dico un po' scherzando, quasi da una moto autobiografica, del ripensare un po' a quello che ho fatto e a quanto scelte, bivi, imperfezioni, errori, abbiano fatto parte della mia vita privata, diciamo, ma tutto sommato anche della scienza, io sono scienziato e allora questa è stata anche l'occasione per affrontare, come dire, un tema importante, perché io mi occupo di quella che viene tipicamente definita una scienza esatta, come dicevi, la fisica ma come anche la matematica. Ebbene, sono partito proprio da lì, cioè dal fatto che le scienze esatte progrediscono spesso anche grazie agli errori, agli errori che poi non necessariamente sono errori fatti in cattiva fede, a volte sono semplicemente mancanza di conoscenza, possiamo dire che Galileo ha fatto un errore che Einstein lo ha superato, beh, volendo anche un po' sì, insomma, cioè Galileo si è limitato a quella parte di mondo che lui conosceva, ecco. E allora, partendo da questa osservazione, partendo dalla scienza, proprio, che è la disciplina che forse conosco un po' di più, ho cominciato a raccontare delle storie, mi è venuta l'idea di raccontare delle storie per far vedere che anche gli scienziati sbagliano e che quindi, lungi dal relativismo di cui parlavi, cioè lungi dal fatto che sbagliare vada bene sempre e comunque, comunque dagli errori, una volta che non siano lasciati soli, e qui ti cito, perché questa frase che hai detto quando siamo visti a Sant'Arcangelo di Romagna, abbiamo fatto questo dibattito e tu hai detto questa cosa che mi ha molto colpito, l'errore non va lasciato solo, inteso come un errore che va, quindi, elaborato, che va riconosciuto, che va studiato e dal quale si può imparare. Ecco, io ho raccontato storie di scienza per far capire come la scienza impara dagli errori e un po' anche come forse poi nelle nostre vite possiamo imparare dagli errori. Mi colpisce questo riferimento autobiografico, cauto, sobrio, che ha fatto, perché una delle vicende più strane di questo libro è l'intervista con la quale io ne ho preso l'esistenza, cioè conoscevo un po' Piero, perché esce questa intervista su Repubblica, dove lui racconta questo libro e alla fine il giornalista gli chiede ma perché si occupa di errori e lui dice perché non ne ho fatti tanti nella vita. Mi era sembrata una risposta piuttosto strana anche conoscendolo come persona intelligente e gentile, e una risposta un po' arrogante, era un errore di stampa. Ora, è clamoroso, no? Cioè che la prima apparizione di questo libro sia stata segnata, uno, devo dire, non è un errore clamoroso dal punto di vista, come dite gli errori, però è abbastanza clamoroso mettere in bocca esattamente il contrario di quello che dice, peraltro sulla propria vita e dando un'immagine di sé, insomma, un po' fanatica. Io non conosco persone che dico mai, io non l'ho fatto. Vabbè, questo per dire come questo libro, insomma, contiene anche degli errori volume dentro, poi magari facciamo una resa dei conti. Cioè è un catalizzatore di errori. Qualche errore è rimasto dentro. Questa è stata, guarda, tu l'hai vista così, ma sapeste quanta gente ci ha creduto? Perché poi, di nuovo, è stato l'entusiasmo, questa parabola, una meteora, no? Perché il libro esce il giovedì, la domenica, appunto, questo grande quotidiano nazionale, apre la cultura proprio con un'intera pagina dedicata al libro. Questo arrogante che dico. Marco, sai, per un autore è il massimo, no? Alle sette e mezza del mattino mi scrive un amico caro e più o meno vedeva, non ti sembra di essere stato un po' esagerato? Favo questa cosa e dico, voi che sbagliate, su, insegno tutto io. Eppure è bastato un non di troppo per stravolgere. Tra l'altro, poi, devo dire che ha portato fortuna, quindi il giornalista è stato bravissimo. Però, appunto, gli errori spessati, cominciamo a entrare adesso, raccontiamo un po' di storie, perché ci sono errori di vario tipo, appunto, errori di abbondanza, si aggiunge un non, errori di eccesso, di immaginazione, di fiducia, errori invece in cui lo scienziato, poi non sono solo proprio scienziati, c'è anche qualche artista, qualcosa, non si fida di quello che vede, errori fatti per, per esempio, banalmente, è un errore arrivare troppo presto a una scoperta? Non è un errore. A parte che c'è chi ci ha lasciato le penne letteralmente, nel senso, gente bruciata viva per aver detto troppo presto cose che poi sarebbero state riconosciute, ci sono errori fatti banalmente per distrazione, ma anche errori fatti invece per un eccesso quasi di attenzione, di concentrazione, mi piacciono degli errori fatti perché si guarda troppo al particolare, si guarda poco al contesto, oppure non si scopre qualcosa perché non si vede. Allora, cominciamo a fare qualche esempio, qualche storia, le scelgo io. Scegli tu, vai. Vabbè, diciamo Enrico Fermi, perché per me è profano scoprire che, non è che Enrico Fermi, adesso la dico, io facciamo così, io la dico nel modo profano, così lui poi è precisa, poi è educato, non dice che so, credino, però mi corregge. Enrico Fermi vince il Nobel, no per sbaglio, però diciamo, gli danno un Nobel per una ragione sbagliata, posso dire così? Allora diciamo... È un po' esagerato. È il titolo del giornale. Esatto. Diciamo, Enrico Fermi vince il Nobel e dopo averlo vinto si accorge perché l'aveva vinto? Sì, no, allora Enrico Fermi vince il Nobel nel 1938 e già questa è una storia di suo estremamente interessante. Pensate che la stampa dell'epoca relega la notizia nelle pagine interne, no? Perché? Perché ovviamente la moglie di Fermi era ebrea e quindi la cosa non era molto ben vista. Ma comunque lui arriva al Nobel del 1938 per una serie di risultati pionieristici che ottiene con i ragazzi via Parispern, il famoso gruppo, negli anni 30, attorno a metà, in particolare il risultato che lo porterà il Nobel nel 1934 è questa, diciamo, scoperta dei neutroni lenti. Cioè sostanzialmente una tecnica che gli permette di investigare le parti più intime della materia con una precisione mai vista prima. Pensate che quando esce il primo articolo, nel 1934, esce in italiano, tra l'altro in questo caso, e Heisidor Rabi, che è questo fisico, probabilmente molti di voi hanno visto Oppenheimer, diciamo il fisico che spesso consiglia uno dei protagonisti insieme ad Oppenheimer e lui era alla Columbia University, a New York, vincerà poi lui stesso il Nobel per la scoperta della risonanza magnetica nucleare, quindi sono un personaggio che ha dato un contributo fondamentale. Ecco, Rabi commenta all'uscita dell'articolo di Fermi, d'ora in poi dovremo tutti imparare l'italiano, no? Per dire di quanto effettivamente il contributo che ha dato Fermi. Quindi da questo punto di vista, ecco, questo sì te lo dico per onor di professione, il Nobel di Fermi è assolutamente meritato, no? Cioè il 99% dei suoi risultati sono strabilianti, effettivamente a tutt'oggi sono risultati fondamentali per la fisica moderna. Ma c'è una piccola cosa, l'errore, no? Quello che io chiamo il rigore, no? Diciamo, è un po' analogo perché parlo di questa cosa paragonando la cosa al rigore sbagliato di Cabrini alla finale dei mondiali dell'82, no? Anche lì un errore che finisce bene, come quello di Fermi, perché Fermi parla di elementi transuranici, cioè ritiene di aver scoperto anche, oltre alle cose che l'hanno portato al Nobel, anche degli elementi più pesanti dell'uranio. In realtà questo è l'errore, non era così. Se ne accorgono proprio nelle settimane, direi, in cui lui sta per ricevere il Nobel, tre fisici, anzi due fisici e un chimico, che sono Lise Meitner, Fritz Strassmann e Otto Hahn. Anche lì tre storie davvero incredibili, purtroppo di nuovo non c'è tempo, no? Ma anche per chi avesse curiosità, Fritz Strassmann è inserito nell'elenco dei giusti tra le nazioni, no? Lui era il presidente della società chimica tedesca, un fervente antinazista, nasconde in casa sua per mesi una donna ebrea, mettendo a rischio lui e la sua famiglia naturalmente, che poi per fortuna riesce a fuggire e per questo gli viene riconosciuto. Comunque questi tre scienziati si accorgono che quello che Fermi aveva visto non era l'elementi più pesanti dell'uranio, anzi una cosa esattamente opposta, cioè la fissione. Loro vinceranno il Nobel per questo, tranne Lise Meitner, e anche qui un'altra storia sul fatto che l'era ebrea, donna, e quindi viene dimenticata dal Nobel. E quindi questa notizia arriva a Fermi più o meno nel momento, poche settimane dopo, pochi giorni forse addirittura dopo, che lui ha dato la lezione magistrale a Stoccolma, no? L'8 dicembre lui va lì, riceve il Nobel, quando si riceve il Nobel si tiene una lezione magistralis, i cui testi peraltro sono tutti registrati, cioè trascritti, e li potete ancora trovare sul sito della Fondazione Nobel. Ebbene, la cosa interessante è che Fermi se ne rende conto, e allora a questo punto voi dovete pensare, lui era considerato il papa della fisica, no? C'era probabilmente, forse non il più grande, ma certamente uno dei più grandi fisici viventi. Aveva l'assoluta tranquillità che il 99% delle sue ricerche erano state corrette, tranne questo piccolo 1%, l'avesse tralasciato, la cosa sarebbe rimasta probabilmente così, una curiosità fra storici della scienza. Invece lui cosa fa? Corregge la sua lezione magistralis. Nel testo che ancora oggi trovate, a pagina 4 c'è un asterisco, ha lasciato scritto quello che ha detto e nota a piedi pagina e dice dopo la pubblicazione di questa lezione ho appreso che quello che ho visto era sbagliato. E quindi lui lo riconosce. Ed è una storia secondo me di una potenza fenomenale, no? Cioè, già sappiamo la genialità, la grandezza di questa persona, ma questa cosa ai miei occhi la rende ancora, no? È una storia che io racconto spesso ai ragazzi e agli studenti, perché la rende ancora più grande. Riconosce l'errore, riconosce, lo lascia scritto e tra l'altro i tre che poi vinceranno il Nobel per questa cosa che lui non aveva visto, ammetteranno che il loro Nobel è in gran parte dovuto a fermi, insomma, perché proprio andando a guardare quello che lui ha fatto e facendo le pulci a quello che lui aveva fatto, ecco come procede la scienza, che hanno potuto poi vincere loro il Nobel. Quindi questa è una storia a mio giudizio davvero molto interessante. Benissimo perché, avete capito, no? La traduco per noi profane, no? Cioè lui, no, no, è chiarissimo, lui pensava delle scoperte delle cose transunali, invece ha niente meno dimostrato la possibilità della scienza nell'atomo. E qui c'è la grandezza di quello che appunto corregge il discorso del Nobel, cioè non è che corregge la relazione, cioè lui fa il discorso del Nobel, si accorge dell'errore, mette la nota, quindi insomma l'umiltà, però c'è anche, Piero, una ricaduta storica che forse se, perché sono passati tre anni mi sembra dalla scoperta, se avessero capito la fissione nucleare tre, quattro anni prima, i tedeschi non avrebbero accumulato quel ritardo che gli ha impedito di costruire la bomba atomica, per dire degli errori, diciamo a fin di bene dal punto di vista. Sì, c'è tutta, diciamo, questo è un aspetto che tocco, diciamo, e che nel libro ma volutamente sul quale non insisto perché, vabbè, è una questione storiografica irrisolta e credo irrisolubile sostanzialmente, cioè quanto il fatto che, questo fatto che hai citato, ma poi pochi anni dopo, nel 38, Fermi va a Stoccolma, non tornerà più perché erano state promulgate le leggi razziali, lui lascia Termini alla sera, c'è un bellissimo brano che racconta di questo commiato dal suo gruppo, proprio alla stazione Termini, e alla mattina era stata l'ultima riunione del Consiglio di Facoltà in cui era stata votata l'espulsione di Tulio Levi Civita, che era stato un grandissimo matematico e, diciamo, quello che aveva fatto tutta la matematica per Einstein, seguendo le leggi razziali, no, che erano state da poco, che tra l'altro anche questo non c'entra con gli errori, ma mi ha molto colpito, perché insomma si è stata vicina il 25 aprile, si è parlato molto, per fortuna, di questi temi, andate a vedere la gazzetta ufficiale del 13 settembre 1938, in cui vengono pubblicate per la prima volta le leggi razziali sulla scuola, in cui sostanzialmente vengono espulse da tutte le scuole del regno gli studenti e i docenti di origine ebraica. Ebbene, sapete quando si dice la banalità del male, no? Allora, con la burocrazia, che poi alla fine la burocrazia va sempre avanti, no? Qualsiasi cosa succede, queste sei, sette norme firmate dal re, no? Chi ci ha messo la firma sotto, finiscono in mezzo a, come niente fosse, a due altri decreti, una sulla disciplina, sui sistemi di molitura e i mulini, cioè una cosa sulla farina e subito dopo c'è invece un decreto sempre ministeriale sull'istituzione di una festa patronale in un posto della Campania, che neanche mi ricordo, insomma, no? Cioè, fra due cose così assolutamente trascurabili c'è questo orrore, no? Di questa legge terrificante. Ebbene, perché eravamo arrivati qui? Perché uno si può porre il problema, cosa sarebbe successo, no? Se il fascismo e il corpeggio, no? Come si diceva prima, il nazismo, fosse stato così, lasciatemi usare questo termine che sembra molto forte, no? Molto brutale, ma l'uso un po' furbo, no? Da tenere queste persone, no? Perché voglio dire, gran parte della fisica di quell'epoca, la fisica nucleare, era stata fatta da Fermi e dai tedeschi, che poi se ne sono, hanno dovuto lasciare l'Italia e la Germania. Quindi è chiaramente una storia che non ha soluzione, insomma, ormai è passata ed è andata così e forse da questo punto di vista, no, anzi, senza forse, per fortuna loro se ne sono andati. È chiaro che il prezzo che è stato pagato lo conosciamo tutti purtroppo. Allora, sì, sto cercando, vabbè, faccio una parentesi, no? Perché ha osato parlare di calcio, no? Perché parla di rigore di Cabrini, perché parla di fisica, lo ascolto sul calcio perso di poter competere. È chiaro che lui sceglie, farlo, spero, non solo ai maschi, sceglie l'errore di Cabrini e non l'errore di Baggio. L'errore di Cabrini, l'errore per cui poi abbiamo vinto i mondiali 82, l'errore di Baggio abbiamo perso i mondiali 94. Quindi io che, insomma, sugli errori dico è meglio non sbagliare, mi tengo gli errori pure catastrofici. Non puoi rimuovere troppo furba la cosa di citare il rigore che ti conviene a te, perché l'errore è pure quella cosa per cui, vabbè, quindi teniamo, senti, no, adesso scegliamo un po' di storie. C'è una storia bellissima riguarda un dolcificante, che è interessante anche perché lì c'è pure uno furbo, non solo uno che sbaglia, si accorge dell'errore in una sola serata, esatto, e in una sola serata si accorge dell'errore e costruisce e pensa già a farci i soldi. Esattamente, è un chimico. E tutto questo col più dolce dei pasti, come potremmo dire. Esattamente, è un chimico, no, Falberg, che siamo fino ad 800, vado a memoria, sì, lui torna a casa dal suo laboratorio, comincia a mangiare. Ma cosa stava cercando il laboratorio? Stava cercando i composti del catrame, cioè una cosa molto tecnica, insomma. Un composto del catrame. Sì, cioè niente, insomma, una cosa importante, ma diciamo che sarebbe, senz'altro non sarebbe passata, come dire, negli annali della scienza, se no per il fatto che lui arriva a casa, si siede, comincia a cenare e comincia a sentire dei sapori molto dolci, no. Mangia una prima pietanza, è dolcissima. Se la prende con la... pensa che hanno cucinato male. Sì, che hanno cucinato male, ma poi capisce che anche il pane è dolce, che anche il bicchiere è dolce, cioè tutto è dolce. Si rende conto che in realtà erano le sue dita, erano le sue mani. Non si usava molto evidentemente lavarsi le mani, ecco, questa è una nota a piedi pagina. Sì, esatto, dopo parliamo che questa storia si ripercuota varie volte e quindi capisce che in realtà accidentalmente aveva prodotto qualcosa che era estremamente dolce. Torna in laboratorio, cerca di capire, si rende conto, gli va bene, perché immaginate se avesse prodotto qualcosa, diciamo di... Questo è come il rigore di Cabrini, cioè poteva aver prodotto un veleno e non sapevamo nemmeno che era successo in laboratorio e Piero non avrebbe parlato. E io non avrei parlato, non avrei scritto il libro. E invece lui scopre a Saccarina, per fare una lunga storia breve, sostanzialmente scopre a Saccarina e non solo la scopre, ma anche la grande intuizione immediatamente di avviarne la produzione e diventerà sostanzialmente il dolcificante più utilizzato. Perché lui diventa molto ricco, lui si arricchisce con questa cosa. Una delle cose più singolari del libro è che i medici non si lavano le mani. Cioè nel senso che questo qua, vabbè, io mi lavo le mani pure toccando dei libri, che è la cosa più... Penso che esco da un laboratorio dove hai lavorato sul catrame e non ti lavi le mani. Però se si lavava le mani non aveva scoperto niente. Lui dice che è un libro educativo, tant'educativo, non è perché... Però invece raccontiamo una storia educativa. Penso che si apre i libri della Marie Curie, anche quelli radioattivi, sai che li tengono... Vabbè, quella poverina, vabbè. Vabbè, Marie Curie è un po' tenerezza. In casaforte, no? Lì alla biblioteca di Parigi, perché sono molto radioattivi. Senti, allora raccontiamo invece una storia in cui lavarsi le mani ha salvato... Anche perché questa pure è abbastanza incredibile, quella di Semmelweis. Nel senso che pure qui, diciamo, partendo dal... No, la storia un po' la conoscevo, però l'idea che... Vabbè, cominciamo dall'inizio senza dire come va a finire. Però diciamo che c'era un'alta mortalità nei parti... No, diciamo, comincia... Tuca, attenzione, non siamo nel Medioevo. No, siamo in un'epoca in cui, insomma, chi ha la nostra età, probabilmente i nostri bisnonni. Ecco, certo. Ma poi siamo nel posto più avanzato del mondo, c'è la clinica medica di Vienna. Nel cuore dell'Europa, siamo fine Ottocento. C'è questo giovane studente ungherese, Ignatz Semmelweis, che studia medicina. Lui vorrebbe fare in realtà il patologo, ma non riesce ad entrare nella clinica e quindi deve ripiegare sulla ginecologia. E' l'ostetricia e quindi si specializza in ginecologia. Entra nella clinica dell'Università di Vienna e all'epoca partorire era un rischio enorme. Cioè c'era una mortalità di parto per quella che veniva chiamata la febbre puerperale. Non si sapeva cos'era, ma sostanzialmente qualcosa che portava a morire più del 10% delle neomamme. sane, cioè non con malattie pregresse, semplicemente si moriva di parto. E lui rimane molto colpito da questa cosa e cerca di capire i motivi di questo aspetto. Perché umanamente si pone il problema come medico di vedere tante di queste donne che muoiono. E qui veramente vanno in cerca un po', lui in particolare cerca correlazioni con il tempo atmosferico, addirittura arriva addirittura a verificare se non sia colpa del cappellano. Perché quando una signora era ormai in moribonda, il cappellano le portava all'estrema unzione e attraversava i reparti suonando una campana morto. E quindi addirittura lui ipotizza che possa essere una specie di sindrome di depressione psicologica, sentire questo segnale di morte, quindi dice no, vai, ma non suonare più la campana. Nulla, non succede nulla, continuano a morire. Al che lui fa l'osservazione che poi scientifica, tra l'altro, che in qualche maniera darà la soluzione del problema. Alla clinica dell'Università di Vienna ci sono due reparti, diciamo, e lui si rende conto che in uno dei due reparti la mortalità è decisamente più bassa. Di nuovo cerca di capire se c'è un motivo particolare, ma certamente non è la provenienza delle donne, le donne entrano a giorni alterni, la seconda è casualmente lunedì in un reparto, martedì nell'altro e così via. Finché arriva a capire davvero qual è il punto, e questo è estremamente istruttivo, per poi anche capire come andrà a finire qui, lo spoiler è che non finirà bene per lui purtroppo, perché si rende conto che in un reparto operano i maschi, cioè i medici, cioè gli studenti che stanno studiando, stanno facendo la specialità per diventare ginecologi. E questi erano rigorosamente tutti maschi, perché le donne all'epoca non potevano accedere alla carriera medica. La seconda clinica invece era gestita dalle studentesse di ostetricia, cioè quelle che poi aiutavano le partorienti, ma non studiavano per diventare dottoresse. Qual era la differenza sostanziale? Che proprio perché studiavano medicina i primi, i medici, i maschi, i maschi alla mattina conducevano un elevato numero di autopsie, perché all'epoca si usavano moltissimo come tecnica di apprendimento. Facevano le autopsie, non si lavavano, ecco e questa è la cosa paradossale, perché ripeto non siamo nel Medioevo, siamo verso la fine dell'Ottocento, l'igiene delle mani era, esagio naturalmente dire non si lavavano le mani, ma c'era un'igiene diciamo approssimativa, in buona sostanza portavano, infettavano, poi con le successive visite poi andavano in corsia, visitavano le donne, le facevano partorire e con queste mani non si usavano i guanti, infettavano queste donne che poi morivano di questa infezione. Ed era un processo che ovviamente si autoamplificava, perché poi a queste donne che morivano giorno dopo facevano l'autopsia e via discorrendo. Le ostetriche che non facevano autopsie perché non studiavano medicina erano molto più immuni a questo tipo di problema ed ecco il motivo per cui nella clinica gestita dalle ostetriche la mortalità era inferiore. Lui capisce questo punto e dà come disposizione un atto così apparentemente banale di lavarsi le mani con un liquido, diciamo una sorta di soda, con qualcosa che in qualche maniera fosse disinfettante. Lui, questo ha immediatamente un effetto ed ecco però la storia che finisce male, perché in buona sostanza si uniscono due cose. La prima lui è ungherese, avete presente questo discorso delle etnie ogni tanto, sembra un discorso abbastanza moderno, e gli ungheresi a Vienna non è che fossero esattamente ben visti all'epoca. E in più osa dire una cosa fondamentale, cioè che i medici portavano la morte, una cosa che per l'epoca era inconcepibile, come queste figure che dovevano salvare le vite, invece lui dice attenzione, siamo noi che stiamo portando con le nostre mani e tra l'altro sapete come se ne accorge? Se ne accorge perché il suo maestro muore subito dopo un'autopsia, perché uno studente inadvertitamente gli fa un piccolo taglietto col bisturi mentre stavano facendo l'autopsia, gli fa una cosa da niente, però dopo pochi giorni questo medico muore, e Semmelweis si rende conto che muore con gli stessi sintomi delle partorienti, ed ecco che subito collega le cose. Questo ovviamente viene assolutamente rifiutato, lui è costretto, torna a Budapest, farà una carriera lì, ma anche lì fa un'enorme fatica a imporre questa sua visione, e la cosa tragica è che morirà da solo in un ospedale psichiatrico con una grave patologia psichiatrica, tra l'altro morirà di infezione dovuta alle ferite che si erano infettate, proprio paradossalmente la cosa che lui aveva combattuto per tutta la vita, a causa delle citure di contenzione, diciamo anche i colpi che prendeva nella sua condizione. Ci vorranno decenni prima che tutto il discorso degli antisettici, diciamo della disinfezione, diventi pratica comune, e ovviamente rivoluzioni la medicina, ecco. Quindi questa è una storia in cui... E questa è una storia esemplare, poi torneremo a raccontarle, perché appunto ogni storia è istruttiva in un modo anche non semplicissimo, per esempio qua, fermiamoci un attimo solo per dire questo, Piero, queste sono quelle storie che potrebbero diffondere sfiducia verso la medicina e la scienza, invece tu sostieni che proprio la storia degli errori ci dimostra la forza della scienza e il modo in cui la scienza e la medicina... adesso la medicina, ma insomma le scienze procedono. Perché questa storia degli errori a te dà fiducia nella scienza? Ti rendi conto che potrebbero essere storie che provocherebbero l'effetto opposto, no? Beh, perché in questo caso, siamo ormai, sono passati 250 anni abbondanti da Galileo, semplicemente non viene seguito il metodo scientifico, ma non da lui, ma da chi invece avrebbe dovuto ascoltarlo, cioè vince il pregiudizio. Di fronte all'evidenza, tra l'altro mi è capitato una volta di parlare di questa cosa a un congresso di statistici, io non lo sapevo, ma Semmelweis è uno degli eroi della statistica moderna, no? Perché lui capisce queste cose dalla statistica, cioè proprio andando a guardare i numeri. La mortalità, lo dici, era del 10%, 9,80, non so, il 10% in una clinica, del 3% nell'altra. Cioè, è glamorosa la diversità, dove peraltro c'erano le donne che erano considerate meno brave, perché non studiavano... Vabbè, lì poi c'è tutta un'altra sottostoria interessantissima, le donne messe da parte, gli impedivano di fare l'autopsia, ma questo paradossalmente produceva la sopravvivenza di molte più donne. Qui, se vuoi, la scienza ha funzionato perfettamente. È stato risultato nefasto, perché c'è stato chi non ha dato ascolto, chi non ha applicato, non ha messo, non si è arreso, non ha preso atto della validità del metodo scientifico. Se fosse stato applicato il metodo scientifico nella sua interezza, probabilmente ci sarebbero guadagnati 30 anni, insomma, no? E quindi direi che anzi, è proprio un caso evidente di come la scienza funziona. Funziona come? Lui ha fatto un approccio scientifico stretto, semplicemente non gli hanno badato. È mica l'unico, eh? Il signore del radar, per esempio, i vari Tiberio... Ah, i vari Tiberio, sì, e qui veniamo ai vari Tiberio, perché c'è un libro, insomma, con delle figure così, quindi con delle storie anche un po' degli eroi, diciamo così, Il mio è uno che si chiama Vincenzo Diberio, immagino se mi è sconosciuto, il quale vive in un paesino sperduto del Molise, dove io sono arrivato per errore, per questo mi incuriosisce la storia, perché questo paese si chiama Sepino, cioè meglio, io cercavo questa città romana magnifica che si chiama Sepino, che sta all'interno dell'Abruzzo, quindi è del Molise, quindi un posto un po' sperduto, che esiste però il Molise, nonostante certi... siccome per errore, perché questa bellissima città romana intatta, meravigliosa, in realtà si chiama Altinum, Altina, la chiamano in un altro modo, e qui c'è delle frecce, pensate al turismo pure in Italia, tutti cercano il Stasebino, e invece il posto che tu cerchi si chiama in un altro modo, quindi c'ho tutte frecce che mandano verso questa città romana, che io regolarmente ignoravo, finiscono in una, non anonimo, ma insomma invece in un paese che stava sopra, diciamo la città romana, dove non c'era nulla, salvo una targa in piazza di questo tipo, che si chiama Vincenzo di Berio, e c'è una cosa bellissima, nella targa c'era scritto Primo per scienza, postumo per fama. Primo per scienza, postumo. Adesso la racconterà a lui, perché io la racconto... Allora cominciò, e lui praticamente era uno che aveva capito come funzionava la famosa muffa che poi Fleming userà per fare la penicillina, nel senso che, quanti anni prima di Fleming? 70? 30? 30? 40 prima di Fleming e poi... Quindi nell'Italia... Beh, lui guarda... Sì, nella fine dell'Ottocento, lui peraltro in un modo, adesso faccio l'angolo del profano, poi lui... Però è stupendo, perché lui vedeva una cosa che effettivamente è un po' strana per noi, perché che le muffe funzionassero come antisettico, antibatterico, un po' si sapeva, cioè la scienza c'era arrivata, la scienza, insomma, quello che c'era c'era arrivata, però lui ci arriva in un modo singolare, perché lui va in campagna, come vedete la storia mi ha appassionato, mi sono preparato, a prescindere dal libro, quando poi l'ho ritrovata nel libro, due paginette appena, secondo me potevi essere più generoso con Vincenzo Di Bello, perché lui va sempre dai parenti in campagna e nota una cosa strana, che quando puliscono il pozzo, puliscono il pozzo dalle muffe, stanno male, cioè bevono l'acqua e ci hanno dei disturbi. Diarrea, chiamiamola così. Diarrea. C'è scritto diarrea? No, perché mi sembra che... forse ho scritto disturbi intestinali. Eh sì, ho scritto disturbi intestinali. Quindi in esclusiva per voi, sapete che cosa erano questi disturbi. E lui nota questa cosa, appunto è un po' antiintuitivo, come puliscono le cose, stanno male. No, lui capisce che le muffe uccidevano i batteri, pulendo il pozzo, rimanevano i batteri, questi si avvelenavano, avevano, come hai detto? Diarrea. Diarrea. C'è la sua parte. Solo che lo scopre troppo presto. Lui può fare al suo lavoro, tra l'altro fa una cosa bellissima, la nave ospedale per il terremoto di Messina del 1908. Cioè lui scopre quello che Flemming avrebbe scoperto, però ecco qui è una cosa interessante. Perché lui non ha riconosciuto Vincenzo Di Berio e poi Flemming lo sarà? E' solo perché arriva troppo prima, perché sta in periferia, perché non ha lo status dello scienziato, lui è un medico militare, mi sembra come cosa. Ti dirò, no, ancora di più lui fa tutte queste cose mentre era studente di medicina. Ancora di medicina? Sì, lui si trova lì vicino a Napoli, perché appunto come dicevi era molisano, studia alla Federico II a Napoli e quindi si trasferisce da questi parenti per poter essere più vicino all'università. E per una serie di circostanze direi, tra l'altro lui da giovane studente e poi da giovane medico tutte queste osservazioni le documenta in maniera di nuovo seguendo in maniera mirabolante il metodo scientifico con test, registrazioni diciamo scritte dei sintomi delle quantità d'acqua bevute, fa bere a uno l'acqua e all'altro, insomma, fa veramente un lavoro scientifico di grande qualità. Semplicemente è una mistura di cose nel senso che lui pubblica i suoi risultati ma li pubblica in italiano e già già all'epoca la lingua diciamo le lingue utilizzate all'epoca siamo nel 1895 quando lui pubblica questa cosa erano l'inglese e il tedesco. Ma questo sarebbe anche meno grave e di nuovo torniamo al discorso di prima di Semmelweis non viene ascoltato lui cerca va all'ufficio igiene va addirittura al ministero della salute spiegando l'importanza di queste cose e semplicemente non viene ascoltato non viene ascoltato perché non potevano pensare che le muffe avessero questo effetto qual era la resistenza in questo caso perché qui l'errore naturalmente non è di bene no l'errore è di qual era la resistenza a mente un po' è che era un risultato che davvero anticipava troppo troppo cioè fate conto che 1895 Fleming scopre la penicillina nel 1929 quindi 30 anni dopo ma attenzione la scoperta di Fleming è ancora una scoperta accademica occorre arrivare al 43 44 perché la penicillina venga utilizzata come medicinale quindi passano altri 20 anni quasi quindi lui era veramente molto molto indietro e poi però c'era purtroppo la grande parte della verità credo sia che semplicemente a chi stava al ministero non gli interessava insomma è una delle scoperte del secolo è una storia che purtroppo abbiamo già sentito cioè la scarsa attenzione insomma verso le scoperte della scienza insomma mettiamoci anche in quegli anni naturalmente adesso non si può ovviamente giudicare quei parametri di oggi ma certamente alla fine dell'ottocento chi c'era Crispi e il governo insomma l'Italia aveva sì esatto c'era no Libia Libia c'era tutta la serie di pensieri figurarsi se andavano a pensare appunto al potere l'antisegno mi commuove perché questo Vincenzo di Berio che insomma appunto se non sbagliavo strada a proposito di errori non ci arrivavo c'è una vietta a Roma in un quartiere che si chiama Fleming pensate che iella così non si chiama quartiere di Berio come vorrei ribattezzarlo sta all'angolo con via Alessandro Fleming che è una via di Roma di una collina di Roma che si chiama collina Fleming e lì c'è la vietta di questo qua perché è arrivato troppo presto ma guarda a me Luista in questo libro c'è una serie di personaggi che mi stanno davvero simpatici io forse all'inizio ho anche scritto ho cercato di scrivere la scienza dalla parte di chi sbaglia no perché poi mi sento di nuovo un po' per esperienza autobiografica abbastanza vicino poi vabbè ci dirà questi errori che ha commesso sto bravo uomo nella vita no alcuni non si possono dire ma lasciamo perdere quelli più gravi ma comunque lui è davvero una persona sfortunata cioè quest'uomo è totalmente sconosciuto come dice cioè non so faccio spesso questo esempio cioè questo test quanti di voi alzi la mano chi conosceva la storia di Vincenzo Tiberia no io no ma guarda che allora ma per errore ti ripeto è interessante perché qui c'è una platea di persone che sta venendo alle nove un quarto di sera ascoltare due che stanno parlando dei libri guardi l'orologio è anche tardi quindi voglio dire quindi non siete qui per caso eppure in primo contatto a occhio siamo circa un 110 ne ho posti a sedere nessuno conosce Vincenzo Tiberio che è stato voglio dire e nessuno poi ne ha più parlato anche la medicina ufficiale lo stesso Fleming non l'ha più riconosciuto lui è stato capite che è uno scienziato uno che guarda una sala e dice siete 110 così senza lo sguardo ho fatto la moltiplicazione sono dieci per fila insomma conta le file più o meno vuoto per pieno insomma ma è comunque mi sta simpatico perché è proprio uno sfortunato e però ecco siccome poi molto spesso gli scienziati vengono dipinti come persone fuori dal mondo così tipicamente lo stereotipo classico è uno vestito male con i capelli arruffati che fa le linguacce spesso anche in realtà sono persone come tutti gli altri io chiudo queste due paginette che dedico a lui con questo brano perché di lui rimane oltre alla targa questa piccola targa che è un paesino sperduto appunto della Basilicata del Molise scusami una lettera che lui scrive alla moglie e c'è un passo che a me piace davvero molto perché insomma secondo me mette insieme la scienza l'umanità tante cose lui dice in questa chiude la lettera moglie scrivendo chi cerca trova lunga e difficile è la ricerca e spesso nella vita unica fonte è l'amore pensare che lui chiuda con l'amore questa lettera alla moglie insomma mi è sembrato molto bello senti non so quanto tempo abbiamo perché praticamente ognuna delle storie insegna qualcosa diciamo questa non è che insegna qualcosa insegna dovrebbe insegnare ad ascoltare di più a essere meno vittime del proprio pregiudizio forse a giorno d'oggi è anche ascoltare un po' di più la scienza che non è esattamente la cosa che va più di moda di questi tempi insomma non so stiamo pensando a varie storie quale potrebbe essere particolarmente istruttiva come dire in una serata come questa pagina 111 direi prima pagina 111 del libro l'errore sì perché il libro ha un errore e anzi adesso sto per dire che probabilmente qualche fortunato potrebbe avere un gronchi rosa nelle mani perché a pagina 111 la reazione di fusione che è quella che alimenta il progetto Manhattan allora adesso stiamo parlando così non so se il libro è pieno di storie in realtà sto libro fa un lavoro bellissimo perché nelle nostre zucche attraverso sta storia degli errori ci fa entrare un sacco di cose scientifiche che facciamo fatica a leggere fa parte di una tendenza di una no di una tendenza di un'inclinazione no esistono oggi libri così ma perché perché i scienziati hanno imparato a scrivere secondo te com'è che riuscite a raccontare cose che no nel senso che non c'è il caso di come è che siete diventati così espansivi vabbè non è una domanda scientifica no no ma è una domanda guarda hai perfettamente ragione ti devo dire che hai perfettamente ragione perché effettivamente la mia categoria in generale non lo è no insomma ci sono io ricordo uno dei miei maestri persona peraltro molto molto brava mi ricordo che una volta mi disse mi raccomando cioè lui vedeva i giornalisti cioè vedeva voi come il male assoluto ma senza un motivo particolare ma semplicemente mi diceva se vedi un giornalista non dire niente no perché loro travisano tutto se qualcuno dice sono d'accordo ma in realtà poi ho conosciuto e lui era perché era fatto così è un signore che adesso ha quasi 90 anni poi ho conosciuto un altro tuo collega che mi ha fatto un'osservazione molto pragmatica dicendo fate attenzione che se non ce le raccontate voi le cose il vuoto lo riempiamo noi è tipicamente peggio ha detto quindi se me la racconti tu magari ne sbagli a metà se invece me la invento tutta io rischia che sbagli il 100% e allora secondo me è una cosa che stiamo imparando a fare non è ancora così diffusa io guarda dico una cosa che magari sembra un po' così potrebbe sembrare un po' altisonante ma neanche tanto secondo me è un dovere civile cioè ognuno di noi deve fare un po' il suo piccolo pezzo per cercare di fare di essere un membro della comunità e credo che per chi come me fa ricerca pubblica quindi sostanzialmente pagata i vostri soldi sia un dovere anche raccontare quello che facciamo si parlava proprio prima in macchina con Marco io credo che difficilmente ci sia qualcosa che non si può spiegare no mettersi mettersi dietro la posizione a tanto questo non si capisce non te lo racconterò perché è troppo difficile perché tu sei asino io ho studiato in realtà secondo me è sbagliato praticamente tutto si può spiegare naturalmente con i dovuti modi con le dovute parole e tra l'altro con questo si fa un servizio alla comunità ma lasciatevi dire si fa anche un servizio a noi stessi e qui faccio un piccolo inciso se ne è parlato un secondo prima io mi occupo di energia nucleare ma voi sapete che l'aggettivo nucleare credo sia uno dei più sfortunati del vocabolario italiano ancorché qualsiasi ospedale abbia un reparto di medicina nucleare che ovviamente è fondamentale ancorché se vi fate se vi rompete un braccio vi fate la radiografia sfruttate un principio di medicina nucleare per farvi la radiografia però questo aggettivo è terribile ebbene credo che raccontare con trasparenza con chiarezza senza omettere nessun dettaglio anche i più complicati o quelli più potenzialmente più preoccupanti di che cos'è davvero l'energia nucleare sia quello che serve per rendere una conversazione sull'energia e guardate quanto ne abbiamo bisogno oggi assolutamente accettabile assolutamente importante rendendoci conto che al di fuori di una centrale a carbone soprattutto negli A.O. oggi ci si sta molto più attenti ma in passato rischiava di esserci più radioattività che non al di fuori una centrale nucleare perché il carbone che è stretto dalle miniere è mica carbone puro contiene una certa frazione di altri elementi alcuni dei quali sono radioattivi e quando li bruciate queste ceneri poi escono dalla ciminiera e ricadono lì sotto quindi ecco secondo me c'è questa dublice valenza per cui forse questo comincia a essere un po' sentito dai scienziati spero una forma di impegno anche di capacità senti Piero a volte usi la formula è un errore un po' sì un po' no anche lì ci dai una lezione lo usi sulla costante cosmologica addirittura di Einstein dice sbagliò introdurla un po' sì ci dai una lezione anche qui come dire non semplice da maneggiare perché introduci un elemento una specie di zona grigia dove ci sono cose che possono o non possono essere sbagliate questo è tipico di una dimensione della fisica contemporanea dove il concetto di verità mi fermo prima di dire una stupida come il concetto di verità sembra dissolversi il concetto di verità nel senso di certezza ci sono dei fenomeni probabilistici rispetto ai quali non possiamo essere certi il gatto io il gatto morto della loro stabilità tutto questo ha introdotto un elemento non di sospetto verso la scienza però di instabilità quasi psicologica tu questa cosa la tratti in un modo che a me sembra molto delicato quando appunto dici può essere un errore un po' sì un po' no però sai di dover affrontare un'attesa rispetto al linguaggio della scienza che invece è quello di dirci una cosa sbagliata e no io trovo questa la parte più istruttiva del libro se vuoi dire la mia ma guarda è istruttiva ma non solo per la scienza cioè io uno un altro dei motivi delle cose che ho imparato scrivendo questo libro è stato un elogio delle sfumature e le sfumature sono una parte essenziale come hai detto tu della scienza ma dai diciamocelo anche della nostra vita io pensavo fossero fondamentale della vita sulla scienza ma lo sono dappertutto allora pensate oggi tu dicevi la visione che spesso domina della scienza è quella di un supermarket delle certezze dove hai tutti gli scaffali e vai a prendere mi serve questo mi serve quell'altro mi serve quell'altro ancora che alla fine magari qui sono io un po' che invado il tuo campo però mi dà tanto l'impressione di quella suddivisione fra bianchi e neri fra buoni e cattivi sul fatto di fare griglie confini no in scatolamenti che fa tanto parte anche del nostro modo di vivere oggi purtroppo e anche di tanto modo di concepire la società la politica le interazioni tra noi in realtà le sfumature sono fondamentali certo ci sono delle cose che sono assolutamente negative altre assolutamente positive però in generale la gran parte delle nostre esperienze è fatta di errori forse sì e forse no che dipendono dai contesti dipendono dai punti di vista ecco usare cioè prendere esempio dalla scienza per raccontare anche queste cose è stato di nuovo uno dei dei motivi che ho fatto che mi hanno spinto a scrivere a scrivere questa cosa e credo sia istruttivo perché di nuovo della scienza è fondamentale capire l'importanza del metodo perché senza sempre pretendere un risultato bianco nero a volte i risultati della scienza non vengono a volte richiedono delle interpretazioni a volte portano anche a conseguenze tra le più diverse voglio dire il lavoro di Fermi ha portato diciamo una bomba atomica ma allo stesso tempo anche l'assfruttamento pacifico dell'energia nucleare quindi e questo come tanti altri per cui se vogliamo alla fine prevale e questo io un po' me ne rendo conto sempre di più col passare degli anni l'enorme valore del concetto di umanità perché poi la scienza è fatta da esseri umani e il supermarket della scienza delle certezze assume e qui di nuovo faccio riferimento a quello che diceva prima Marco mi ha molto colpito quello che diceva un ruolo della scienza macchinistico come appunto prima si parlavi del fatto che l'imperfezione è ciò che rende l'umano umano a differenza della macchina questo si applica anche alla scienza è l'imperfezione è la complessità le sfumature che rendono la scienza davvero credibile perché sai che funziona che c'è un metodo che è in grado di correggere gli errori partendo dall'osservazione che gli errori sono inevitabili perché questo è il punto fondamentale poi alla fine di tutto quello che abbiamo sentito prima quello che sentiamo stasera che gli errori sono inevitabili l'imperfezione è parte di noi è parte appunto del vivere la vita stessa deriva da un'imperfezione se il DNA non si fosse se la replicazione del DNA non fosse soggetta a imperfezioni noi saremmo probabilmente degli organismi tutti uguali fatti di poche cellule da sempre invece e qui ho rubato una citazione un articolo scientifico tra l'altro l'errore nella replicazione può produrre Picasso o può produrre la morte perché è stato un errore cioè l'errore nelle mutazioni nell'evoluzione ha fatto sì che il nostro cervello si evolvesse da quello dei primati e potesse produrre geni appunto come quello di Picasso o di Einstein ma allo stesso tempo una mutazione genetica può causare un tumore insomma che poi ci può portare alla morte e questo se volete è un enorme fascino anche della vita insomma che ci dice come l'errare l'errore sia parte della vita stessa sia meccanismo fondante e quindi inevitabile potremmo dire una educazione alla complessità e poi però c'è la correzione e poi c'è la correzione e quindi a pagina 111 perché a pagina 111 c'è un errore letteralmente fantoziano come ha detto questo signore infatti perché la reazione di fusione sta parlando però della cosa di cui è maestro la reazione di fusione prevede che due nuclei leggeri tipicamente queste le sapete bene salto sapete come funziona idrogeno si fondino a formare un nucleo quella quella battilei si battilei allora qualche giorno dopo che esce il libro tra l'altro letto da me n volte da cinque cari amici gran letto dagli editor della casa editrice dal correttore di Word che naturalmente non se ne è accorto che fondino effettivamente esiste del verbo fondare non del verbo fondere mi scrive sui social un signore che si qualifica come insegnante di lettere che mi fa grandi complimenti per il libro e mi dice guardi professore però devo segnalarle bonariamente che a pagina 111 c'è un errore fantoziano allora vado a vedere effettivamente fantocci battilei ma cosa mi dà del tu no no è congiuntivo effettivamente c'era questa cosa terrificante quando l'ho detto in casa editrice ha detto a popolare abbiamo sbagliato un congiuntivo sai tio cosa abbiamo fatto però così è andata però dicevo chi ha la fortuna come lui di avere perché quello è corretto sì perché per fortuna il libro sta andando abbastanza bene questa è la terza ristampa già dalla seconda pagina 111 c'è scritto si fonda controllo ma perché uno si fida si fondino si fondano vedete che si aspetta però perché c'è un'altra pagina 130 pagina 130 è rimasto eccolo qui c'è un errore di virgolette che insomma ma se errori no vabbè però e come no ragazzi ci sono delle persone è un gravissimo errore di virgolette virgolette che si chiudono senza essersi mai aperte ah com'è 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 sta storia cilenti devi rifare sì c'è devo fare porta bene questa è la quarta edizione quindi va bene che volete possiamo salutarci volete sapere qualcosa di più no no avete abbastanza storia ah vi dico il resto delle serate in genere interroga sì lo salutiamo no magari c'è qualcosa vediamo se sì il suo errore tanto ha sbagliato le virgolette questa cosa e rimane anche nelle edizioni che adesso acquisterete certo se volete io ho un prezzo vi do questa con l'errore certo il paragone con il cronchi rosa mi rende particolarmente goloso però se volete poi si può fare anche un package con la pagina di Repubblica anche sbagliata oramai introvabile no no è rimasta tra l'altro online è corretta sicuro? sì guarda che io l'ho controllato online c'era ancora quando quella io non ho mai commesso errori che è una delle affermazioni che mi trovo modestamente io non ho chiamato alle sette e mezza di mattina però il giorno dopo due giorni dopo ho visto un amico comune e dico certo però Piero è pure strano dico ti pare va di girare un'amica e allora il mio amico non puoi sapere quanto è disperato a casa che è uscito da questa cosa comunque guarda io magari l'ultima cosa che leggo è due righe che non sono mie naturalmente perché le cose belle insomma sono di altri ma visto che abbiamo parlato di errori e visto che insomma forse uno dei posti dove si dovrebbe più possibile cercare di convivere con gli errori e soprattutto di farne di miglior uso è la scuola laddove si insegna e soprattutto agli inizi ma anche dopo diciamo e allora c'è questo matematico che si chiamava Federico Rinches è stato un grande matematico italiano ma anche un grande didatta e lui scrive una cosa che secondo me resta un po' come una sorta di così di insomma di motto per chi come me anche insegna il maestro sa che la comprensione degli errori dei suoi allievi è la cosa più importante della sua arte didattica e effettivamente è una cosa davvero a mio giudizio assai importante che fa il paio con quello che poi invece scriveva un altro grande un altro grande libro che credo che insomma dovrebbe davvero essere un po' nelle biblioteche di tutti che è il libro degli errori di Gianni Rodari che dice perché un bambino deve imparare piangendo ciò che potrebbe imparare ridendo insomma e quindi ecco facciamo buon uso anche di questi errori dice pure no così finiamo con Rodari dice pure che gli errori gli errori sono utili come il pane e spesso anche belli come la torre di Pisa infatti se fosse stata senza errore nessuno andrebbe a Pisa a vedere l'ennesima noiosa torre dritta italiana grazie bene grazie 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 grazie